Namaste, ciao! Nei due video precedenti abbiamo visto che sì, possiamo incontrare degli ostacoli durante il nostro studio dello yoga, è normale, e Patanjali oltre a indicarci già questi ostacoli ci dà anche dei suggerimenti di come sorpassarli. Un altro modo per ritrovare la motivazione, ritrovare forza, ritrovare creatività perché poi una cosa molto bella che la meditazione ci dà nel farci riconnettere con il nostro sé è proprio farci tornare a essere creativi. E questo è una cosa che porta molta gioia ma se ci pensate la creatività è un momento in cui non ci diamo dei limiti. È un momento estremamente puro e invece di essere un attimo ogni tanto casuale può essere diciamo più un fluire di creatività. E quindi un altro modo per lavorare sulla nostra incedere nel percorso dello yoga in modo appunto più fluido oggi mi piace questa parola, è il cantare il mantra OM. Ho fatto un video di recente parlando dei mantra di come meditare con i mantra. Una cosa fondamentale di mantra è la vibrazione. Il mantra OM, che è il mantra da quale nascono tutti i mantra ne è l'esempio fondamentale. OM viene definito come il suono da cui ha origine tutto, la vibrazione da cui ha origine il tutto e quando recitiamo questa sillaba lo sentiamo. Lo sentiamo prima di tutto perché OM in verità è composto da tre lettere A-O-M. Scusate, A-U-M. La U poi si diciamo si pronuncia come una U prolungata Quindi è un A-O-M. E queste tre lettere sono, prima di tutto, è interessante anche notare che sono tre lettere che tutti possiamo pronunciare. Qualsiasi sia la nostra lingua, la nostra, diciamo, lingua madre Tutti a questo mondo possono emettere questi suoni E sono tra i primi suoni anche che emettiamo come neonati Il mantra OM è diviso in quattro parti C'è la parte appunto in quale iniziamo a sentire, a emettere il suono più aperto, con la bocca più aperta della A che si restringe nella O per chiudersi nella M E l'ultima parte è la parte nel quale la vibrazione man mano svanisce Però anche quella è una parte La prima parte, la A, è il nostro stato di veglia, il nostro stato cosciente Nella O incominciamo a passare al nostro interno, è il nostro mondo dei pensieri Nella M è il nostro stato di sonno più profondo, il nostro stato più interiore L'ultima fase nella quale la vibrazione si fonde È il nostro stato di samadhi Quindi abbiamo detto il nostro stato di unione Quindi possiamo usare questo mantra estremamente semplice Che possiamo pronunciare tutti alla perfezione Che possiamo cantare tutti E usare la sua vibrazione, farla proprio risuonare Risuonare dentro di noi Per condurci Dallo stato di veglia più rivolto al nostro esterno Allo stato di unione, di samadhi Possiamo quindi usare questo mantra per riconnetterci con la fonte E quindi ritrovare la forza, il vigore, la gioia, la motivazione, la creatività Come vi dicevo all'inizio Per passare oltre agli ostacoli che eventualmente si possono presentare nel nostro percorso Come cantiamo il mantra OM Lo possiamo recitare Io quello che vi suggerisco è proprio di Non è importante la performance canora È importante che davvero sentiate la vibrazione del mantra Una cosa molto bella Non so se ne avete già fatto esperienza Altrimenti vi consiglio di farlo Se magari vi trovate con altre persone a cantare Se vi capita magari all'inizio, alla fine di una classe L'insegnante vi fa cantare l'OM Che differenza c'è Quando è una vibrazione molto più ampia, collettiva Provate a partecipare a un kirtan Quindi è un momento di canto di mantra E sentirete anche solo l'inizio Cantando la sillaba OM Quanto può essere effettivamente molto potente Bene, io spero che questo video ti sia stato interessante E ci vediamo alla prossima Namaste